Il mistero e il segretario dietro l'hypnosis non verbale e il mesmerismo. Resultati delle mie ricerca. Per te, per il tuo sviluppo personale, per la tua vita e per diventare un professionale con i risultati più alti. Per te. Per te. Per te. Per te. Grazie. 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 Il primo elemento che mi ha interesse in questa disciplina era il ragazzo. Virgilio, un uomo misterioso che vivendo nel paese, era capito di ipnotizzare in secolo. Un'altra persona che ho conosciuto, ho cercato per lui perché ho cercato in ogni caso. Le persone hanno stato capito di fascinare, di ipnotizzare cosa era Herminio di Pisa. Herminio di Pisa, che era interessato nel crescita personale, nel esotericismo, era anche molto capito di aiutare le persone. Herminio di Pisa, il professor Herminio di Pisa, era capito di aiutare una persona in qualche secolo. perché aveva un uomo molto forte. E con questi uomini ha creato una trasformazione nella persona. La prima volta che lo vedo, non lo aspettavo. Di Pisa mi ha introdotto a una piccola tv privata, che era là. e era lì e era un tecniciano che aveva il paese sull'uomo. A questo punto, di Pisa ha detto, «Professor, guardate a me». E in un momento, ha lasciato il paese. Mi ero assicurato. Il ragazzo era bene. Dopo che ho cercato di ripetere quello che ho visto, e dopo, ho chiesto i ragazzi, ho chiesto di molti elementi per la Pisa, per ripetere. Ora, ho insegnato questa tecnica in Marcao. E molti dei miei studenti hanno ricevuto dei risultati molto forti. Con i ragazzi, in qualche modo, abbiamo ricevuto la mente. e ho dato un esercizio molto semplice per fare, per esercizare i ragazzi. E' l'apprendimento di non sbagliare. non sbagliare. Puoi farlo con un punto, su una walla. Puoi cercare di osservare un punto, e non di sbagliare. Puoi rimanere così. Se tu osservi anche me, in questo video, non sbagliare. e puoi cercare di osservare il punto, il punto senza clicca. Anche la Pisa ha fatto questo esercizio. Puoi fare questo esercizio anche con un mirro. e questo lo esercizio in un altro video.